Avanti il prossimo! Sono qui perché voglio recitare in uno dei vostri film. Può andare, le faremo sapere. Può andare, le faremo sapere. Le faremo sapere. Avanti il prossimo! È lui! È lui! È lui! È lui la persona che stavamo cercando! È lui! È lui! È lui! È lui la persona che stavamo cercando! È lui! È lui il nostro protagonista! Complimenti! Lei è la persona che stavamo cercando! È lui! Scusi! È lui! È lui! È lui. È lui! È lui! È lui! È lui. sono raffaele vengo da maddaloni un paese in provincia di caserta e sono un attore ho fatto molti film ho fatto teatro ho lavorato in televisione e adesso sono qui come attore per il vostro film può andare le faremo sapere salve buongiorno può andare le faremo sapere può andare le faremo sapere ho fatto anche numerose pubblicità e ho questo talento fin da quando ero bambino e da lì ho iniziato a recitare mi sono trasferito lontano ho frequentato una scuola di recitazione andare le faremo sapere che fa accetta le faremo sapere buongiorno 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 Grazie per la visione! Grazie a tutti!